Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa contemporanea, un viaggio non solo fisico ma anche interiore. Affrontato da un gruppo di personaggi alla ricerca di se stessi e di risposte esistenziali. Il testo trasmette il messaggio di trasformare l'impossibile in realtà attraverso l'intuizione, la fede, la resilienza e la scoperta di nuovi orizzonti. Non solo geografici ma anche spirituali. La trama del libro in viaggio per Atribil, aprire la mente e vibrare in libertà. Il mistero del vuoto pieno, della scrittrice Anna Rago Citro, pubblicato dalla casa editrice LF Publisher, è la seguente. Il libro è la narrazione di un viaggio avventuroso e intrigante, che a partire dalla Puglia si dipana in una serie di tappe programmate e di fortuiti imprevisti. Tra incantevoli scenari naturali e accadimenti inimmaginabili, l'impossibile diventa realtà. Nagual è il personaggio cardine della storia, maestro di arti marziali e di longeviti, guida un gruppo di viaggiatori pellegrini, che partono dalla Puglia per raggiungere Santiago de Compostela. Lucio, un vivace adolescente, dotato di insolite capacità intuitive, intraprende il viaggio insieme alla madre Margherita, con la speranza di avere notizie del padre, Roberto. Disperso a seguito di un incidente aereo. Bianca e Angelo, dopo lo svelamento del loro reciproco amore, sono alla ricerca di una nuova dimensione di vita insieme. Paola, una giovane interprete napoletana, segue Nagual nel tentativo di lenire il dolore per l'improvvisa morte del padre Salvatore e per fare luce sulla sua misteriosa dipartita. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza, per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.